De Caro Home Street Food, panino con polpette gourmet, porchetta, pollo allo spiedo e altre specialità, tutte cotte al forno. Per De Caro comincia la nuova avventura, vi aspetta in via Carlo del Balzo ad Avellino. La migliore risposta agli atti di vigliaccheria subiti dai sindaci di Montoro e Monteforto il Pino viene dalla piazza Cremita. Così il vicepresidente della giunta regionale, Pulvio Bonavitacola, che ha annunciato mezzi e risorse da Palazzo Santa Lucia per garantire maggiore sicurezza sulle aree irpine di recente eminate da intimidazioni e attentati. Assente il governatore per problemi di salute, è toccato a Bonavitacola replicare a Stefano Caldoro che durante un convegno ad Avellino aveva censurato l'azione amministrativa di De Luca, bollandolo come un salinitano che ha messo i piedi in testa all'irpina. Caldoro fa il gioco delle tre carte, ribatte Bonavitacola. Questa è una logica diciamo veramente antica di mettere in contrapposizione i territori, questo è un vecchio giochino, il gioco delle tre carte, salinitani contro napoletani, napoletani contro ilpini, ilpini contro salinitani. La verità è che le divisioni non sono tra territorio, tra regio grafico o tra etnie, le divisioni sono tra chi fa cose importanti per la propria comunità e chi fa solo ghiacchiere. Caldoro mi pare che appartenga alla seconda categoria.